E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video vlog annuncio come sempre sul mio canale per la live stream che ci sarà questa sera dalle ore 20.30 come sempre su il mio canale di youtube ragazzi Allora stasera porteremo Rainbow Six Siege come sempre dove faremo partite classificate, partite libre in cui voi sarete proprio voi ragazzi a decidere cosa che operatori usare durante queste partite libre Quindi comunque sarà massimo divertimento ormai come sempre ci sarà da divertirsi e cerchiamo di salire di grado per lo meno, cioè per lo meno io quindi Stasera saremo accompagnata in grande Dark Legion da Mirenzo, Black Eyes e forse il Prince quindi la nostra classica squadretta insomma d'assalto è completo ecco Oltretutto ragazzi vi volevo rinformarvi dicendo dei ragazzi come sempre a breve, c'è a breve non so penso per settimana vedremo ci uscirà il nuovo episodio della top 5 quindi dei sui videogiochi momenti epici e fail dei videogiochi Quindi ragazzi di rinviare sempre, continuare a inviare le vostre clip quindi se volete partecipare a questa serie con i vostri video e ragazzi di iscrivervi anche al mio canale di Twitch che potrebbero venire fuori delle live random qualsiasi momento su Twitch Ho deciso così, il martedì è per YouTube mentre le altre live random le facciamo su Twitch ecco Quindi ragazzi vi aspetto stasera 20 e 30 sul mio canale, mi raccomando non mancate, dai raga, su